Bene signori, il comandante dell'equipaggio della motonave Città di Tiamari vi dà il benvenuto a bordo e vi promette che farà di tutto per farvi trascorrere una piacevole giornata in nostra compagnia alla scoperta della vista dell'Arcipelago di La Madaglia. In giugno come in gennaio coltivo una rosa bianca, in giugno come in gennaio coltivo una rosa bianca, perché l'amico sincero mi dà la sua mano franca. Guantanamera, Guaira Guantanamera, Guaira Guantanamera. Un verso è di un verde chiaro, uno di un cremi si è acceso. Un verso è di un verde chiaro, uno di un cremi si è acceso. È come un cervo ferito che cerca pace nell'alma. Guantanamera, Guaira Guantanamera. Guantanamera, Guaira Guantanamera.